Dalla Regione Campania arriva una spinta maggiore per accelerare gli investimenti dei fondi strutturali. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sarà l'occasione per i comuni fino a 50.000 abitanti della Campania per avviare opere che li avvicinino agli standard europei. Interventi strutturali, la cui finalizzazione della programmazione, è stata seguita passo passo dall'organismo campano dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che saranno destinati ai piccoli comuni della Regione ed aree che vivono oggi difficili situazioni socio-economiche. L'Anci Campania offrirà supporto tecnico-istituzionale per la compilazione delle istanze di partecipazione ai comuni della Regione, che potranno presentare progetti sia singolarmente sia in associazione fra loro. Gli ambiti disponibili sono quattro. Sviluppo urbano per interventi di riqualificazione, progetti di sviluppo urbano, interventi relative ai porti minori oppure uno fra ambiente, lavori pubblici e protezione civile. Agli enti più popolosi, fra i 30.001 e i 50.000 abitanti, sarà destinato solo il 20% delle risorse. Il 40% è rivolto agli enti con massimo 10.000 abitanti e il restante 40% agli enti fra i 10.001 e i 30.000 abitanti. Il presidente dell'Anci Campania, sindaco di Monti di Procida, Francesco Paolo Iannuzzi, ha posto inoltre l'attenzione su un altro aspetto che gli amministratori degli enti locali stanno seguendo particolarmente. Sul passaggio da Imu e Tares a IUC, viene chiesta chiarizza per capire su quale aliquota sarà fissato il provvedimento per evitare altri tagli e trasferimenti ai comuni, che non gravino ulteriormente sulle tasche dei cittadini.